Immaginate un ripieno filante e cremoso e una crosticina in superficie super croccantina Questa torta di patate è assolutamente strepitosa La proviamo? Lessate le patate in acqua bollente Poi schiacciatele riducendole in purea Aggiungete il parmigiano grattugiato L'uovo intero Sale E pepe nero Mescolate ed amalgamate tutti gli ingredienti Tagliate la provola affumicata a fette In uno stampo foderato con carta forno Versate metà dell'impasto di patate Adagiate le fette di prosciutto cotto Poi la provola Coprite con il restante impasto di patate Livellate bene E cospargete la superficie con pan grattato Qualche ricciolo di burro E cuocete in forno fino a duratura In questo modo si formerà una crosticina croccante e dorata Ed ecco pronta la torta di patate Ripieno filante Bontà assicurata La proviamo? Bontà assicurata Grazie a tutti.